Scusatemi, scusatemi. Scusatemi, ragazzi. Scusatemi. Scusatemi, scusatemi. Scusatemi, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado dalla mia ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo? Guarda che cinque minuti sono passate a un quarto d'ora Non hai capito? Non mi partiva il motorino Eh, va bene Oh, l'hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo, toccandovi facciare il piede No, mamma mia, come c'è? No, va bene Benvenuto al cinema Quanti sono i biglietti? Vabbè, ma è uno scherzo Il cinema non scherza mai Dai avanti che ci rarrenta della fila Vabbè, io allora vado a prendere i pop-corn Ecco qua, pop-corn e coca Ma lei è? Sì, so, dieci euro Dieci euro, sì Beh, che volevo fare? Ah, sì, sì Pagherò il terzo adere Sì Devi dirla Salve Salve Grazie Ecco, ecco qua Sarà sulla sinistra Arrivederci, buonasera Ciao Ciao Info dal corridoio a destra Tutto a posto? Camminare, su Buonasera Buonasera Non male Non male, eh Infatti, non male No, dicevo, il film, non male Il film, sì, no Bella scelta Bella scelta Io lo vedo con Luca Io Ecco qua Oh, mi scusa Ah, c'è Luca Buonasera C'è Luca Ah, c'è Luca Buonasera Buona visione Biglietto? Prego Scusi Mi scusi Mi può spiegare cosa sta succedendo? Niente Siamo tornati Popcorn? Signorina Mi raccomando Al cinema Niente cellulare No, scusi Buonasera Vi preghiamo di mettervi comodi Di godervi lo spettacolo Il film sta per cominciare Mi scusi Che mi sono perso? No Si Ma Si Per Per Tri Per Po Sa Pe Sa Se Ma Grazie per la visione!